Cerimonia di consegna del premio intitolato al dottor Aniello Ferraro, originario di Ceraso e distintosi nella ricerca ematologica, presso il King's Residence Hotel di Palinuro, nel corso di due giornate dedicate al corso di aggiornamento di studi Onco-Ematologie e Citometria-Flusso, diretto dal dottor Giovanni D'Arena, presidente nazionale della Società Italiana di Citometria, con la segreteria scientifica affidata ai dottori Luigi Di Gregorio, presidente della cooperativa medica Parmenide e Agostino Festa. Nel corso delle giornate saranno trattati aspetti diagnostici e terapeutici in Onco-Ematologia, un focus sulla leucemia linfatica cronica e gli aspetti patogenetici e terapie di supporti in Oncologia. Il premio sarà consegnato alle 12 del 28 aprile al dottor Gerardo Botti, già direttore dell'Unità Operativa di Anatomia Patologica, e direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Tumori, Fondazione Pascale di Napoli, e al dottor Angelo Schiavo, direttore di Fidi a Farmaceutici. L'introduzione alla cerimonia di consegna sarà affidata al neosenatore 5 Stelle Francesco Castiello e il dottor Botti terrà la lettura magistrale, il patologo nell'universo della ricerca traslazionale, mentre il dottor Angelo Schiavo interverrà sul tema il ruolo dell'industria farmaceutica nello sviluppo di nuovi farmaci. Grazie! Grazie!